Ciao da Dove al Sud! Oggi siamo a Pompei con Daniele e Daniela! Cominciamo la nostra passeggiata a Pompei! All'inizio è il santuario della Beata Vergine del Rosario! Bellissimo! Guardate la cupola con gli orologi! Poi in questa piazza, guardate che bello con la fontana! Facciamo quest'altra panoramica sulla Basilica Pontificia, poi ci spostiamo e vediamo il campanile! Guardate, favoloso, con la Statua del Cristo! Facciamo uno zoom così si vede meglio, guardate! Che spettacolare qui! Pompei, bellissima! Ci troviamo all'interno della Basilica Pontificia! Bellissima! Il dipinto della Madonna del Rosario di Pompei sull'altare! Continuiamo con la nostra passeggiata qui a Pompei e tra queste strade, Daniela, ci sono tantissimi negozietti locali per mangiare! Beh, noi prima di avventurarci tra gli scavi facciamo una buona colazione! E cosa possiamo prendere, Daniela? Un bel babà! Il babà napoletano! Ok, è andata! E prendiamo anche la sfoglia dell'ariccia a questo punto! Adesso ci partiamo la colazione! Ci vado anch'io! Sarà un po' difficile con una mano! Ci riuscirò! Ce l'ho fatta! La giusta energia prima di andare a visitare gli scavi, là c'è da camminare un po'! E dopo la colazione, Daniela, all'avventura! Andiamo a visitare gli scavi! Sì, sì, andiamo! Ed ecco uno degli ingressi degli scavi! Ed eccoci, Pompei Antica! Sì, siamo nell'anfiteatro! Guardate, è immenso! Che spettacolo! Bello! Vi mostriamo una bellissima panoramica dell'anfiteatro di Pompei! Come sapete, i Pink Floyd registrarono qui, live a Pompei! Pink Floyd fece il concerto senza pubblico qui! C'è anche Dove al Sud? A Pompei! Andiamo a visitare l'orto dei fuggiaschi! Nell'orto dei fuggiaschi si trovano i calchi di alcuni abitanti, suppresi durante la fuga della furia devastatrice dell'eruzione! Fai un passo più indietro e ci vediamo anche noi! Anche noi, eccoci qua! La nostra passeggiata, Daniela, aveva faticato un attimo sulla pietra! Ed ecco il teatro grande! Dietro si vede anche il campanile del santuario, qui a Pompei! Ecco, il teatro grande! Adesso scenderemo questa scalinata qua! Bella ripida e piccolina! Daniela si intrufola in questo gruppo, però chiaramente... Non faceva parte! Il lupanare, cioè in pratica i bordelli, qui! Ed ecco i letti del bordello! Stiamo camminando sulla strada principale di Pompei Antica! Gli scavi di Pompei sono famosi in tutto il mondo! Infatti ci sono un sacco di stranieri qui in giro e guardate che facciamo vedere come è il pavimento! Infatti ci siamo attrezzati con le scarpe giuste! Spettacolare! Ci troviamo nel foro! Sì, è un'imponente piazza! Pensate che ospitava eventi pubblici come i dibattiti politici e gli scambi commerciali! Il Tempio di Giove! Ah, che spettacolo anche qui! Siamo arrivati al Tempio di Apollo! Il Tempio di Venere! Ci troviamo nella Casa del Fauno! Quella è la statuetta in bronzo del Fauno danzante! Stiamo visitando i resti della città di Pompei Antica! Seppellita sotto una colta di ceneri e lapilli durante l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. insieme a Ercolano, Sabia e Oplonti! Da qui si vede anche il Vesuvio! Noi ci siamo stati l'altro giorno! E qui ci sono le fontane! Noi ne approfittiamo per rinfrescarci che è una giornata calda! Bellissima la Casa della Fontana Grande! Facciamo anche una semplice passeggiata dal vivo! Siamo finiti in una stanza! Sì! Siamo arrivati a Villa dei Misteri! Guardate che belli gli affreschi che rappresentano riti mistici! E poi ci sono quelli in stile greco! Sì, eccoci! E qui termina la nostra passeggiata amatoriale! Vi abbiamo fatto vedere Pompei, il centro con il santuario e poi gli scavi! Speriamo vi sia piaciuta la nostra passeggiata! A noi è piaciuta molto! Vi consigliamo di visitare Pompei e gli scavi naturalmente! Infatti! Quindi non vi resta che seguirci! Sì, sempre! Seguiteci! Seguite la pagina su Facebook Dove al Sud e poi su Instagram! Ciao Pompei da Dove al Sud! Ciao da Daniele e Daniela! Ciao!